Ebbene carissimi amici ancora ben ritrovati qui sul mio canale youtube, allora parliamo ancora del metodo di dia vincente vi porto veramente i tre esiti eclatanti che sono stati ottenuti in questo mese di dicembre proprio a chiusura di un anno veramente fantastico per questo metodo che tanto ha fatto vincere in questo 2023 una valanga di ambisecchi lo presentai se non ricordo male doveva essere forse il mese di marzo, il mese di aprile e veramente ha dato degli esiti primavera estate e inverno veramente pazzeschi e un metodo che riesce a vincere tre ambi nell'arco di un mese è un metodo certamente da avere e da non sottovalutare e le previsioni bisogna giocarle tassativamente perché non si può non giocare queste previsioni perché vincere tre ambi in un mese non è cosa da poco e vi porto proprio questo tris di ambisecchi vinti dal metodo idea vincente il 30 novembre l'8.90 vinto sulla ruota di Genova l'11 dicembre 66-17 ruota di Cagliari e il 19 dicembre l'ultima vincita di ieri il 24-66 a Bari quindi se notate su ognuna delle tre ruote è uscito un ambio prima a Genova poi a Cagliari e poi a Bari questo vi fa capire la potenza di questo elaborato e cosa è importante? questi ambi sono stati ottenuti al primo colpo di gioco perché io questi ambi gli ho dati l'estrazione prima cioè finita l'estrazione io aggiorno la giocata e ve la do per l'estrazione successiva quindi immaginate cosa vuol dire aver elaborato un metodo ma questo come anche altri che ho vi posso citare il top one che con un solo ambi ha vinto il 90 e 20 il primo dicembre a Bari vi posso citare il doppio strike due ambi su due ruote vi ho vinto il 57 e 90 a Genova il 15 dicembre cioè questo vi fa capire la potenza di questi metodi e che studi ci sono alla base per andare a centrare degli ambi secchi a colpo questo vi fa capire che studi ci sono alla base cari amici sono degli studi veramente pazzeschi quindi vi invito a prendere queste previsioni che tra l'altro io do gratis do gratis con pagamento alla vincita cioè non ci sono scuse per non giocare queste previsioni perché potete provarci le potete prendere e vedere come va alla fine dei conti rischio zero perché pagate alla vincita soltanto quando avete il cellulino in mano dell'ambo vinto quindi meglio di così non si può fare e queste sono previsioni che io potrei vendere sono previsioni che potrei mettere in abbonamento perché è un metodo che mi produce tre ambi in un mese e voglio dire non so quanti possono bantare una cosa del genere tra l'altro ambi vinti a colpo e sono tre ambi veri questi sono cedolini vostri che vi avete inviato di gente che ha avuto fiducia in me ha avuto costanza nel giocare le previsioni e nel mese di dicembre si porta a casa tre ambi in tasca cari amici tre ambi nel mese delle festività tre ambi secchi in tasca cari amici e parliamo di soldini con pagamento alla vincita tra l'altro quindi mi raccomando idea vincente un metodo che vi ho tanto pubblicizzato mi raccomando a prendere le previsioni perché chissà se entro la fine dell'anno potrebbe arrivare addirittura un quarto ambi e chiudiamo con un fantastico poker di vincite comunque già è andata più più che bene ma già se fosse sortito un solo ambo sarebbe andata più che bene aver avuto tre ambi secchi veramente è andata in maniera meravigliosa quindi contattatemi via whatsapp che molti mi commentano come faccio a contattarti come non faccio io metto intanto vi dico sempre il numero in descrizione trovate il numero whatsapp cioè prendetevi la briga anche di leggere 348 75 47 715 mi contattate via whatsapp la modalità è vincita venuta io vi do la previsione accettate l'impegno di giocate perché qui ci vuole serietà e correttezza come c'è la parte mia ci deve essere la parte vostra e giochiamo insieme queste previsioni quindi mi raccomando idea vincente ha realizzato veramente un tris pazzesco di vincite per adesso saluto a tutti i mister spancolotto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti